Vi aspettiamo tutti con il nostro nuovo spettacolo Rony Roller e Stefano Orfei Con il nostro nuovissimo spettacolo Vi aspettiamo con il nuovo spettacolo a Rony Roller Circus più Stefano Orfei Olè! Qua! Al circo Rony Roller! Vieni! Vieni! Hola, sono Valentina Camus Maria Camus Sono del circo Rony Roller, del nuovo spettacolo più Stefano Orfei Los esperamos e invitamos a tutti i nostri amici di Latinoamérica Un saluto delle hermanas Camus Ciao! Ciao amici miei! Sono Stefano Orfei Mi raccomando, numerosi e un bel divertimento Ciao amici! Ciao amici! Mi raccomando, numerosi e un bel divertimento Ciao amici! Mi raccomando, numerosi e un bel divertimento